È stato il presidente dell'Unione Cavalieri dell'Odigiano, Silverio Gore, ad aprire la cerimonia di consegna del premio alla bontà istituito da Lunci. Nella chiesa di San Francesco a Lodi si è fatto spazio inizialmente al concerto di Natale proposto dalla Corale San Giorgio di Montanaso Lombardo, diretta da Paolo Villa. Al termine della prima parte del concerto si è passati alla consegna del premio assegnato quest'anno alla Caritas Diocesana, rappresentata dal suo direttore Don Andrea Tenka. Poi la seconda parte del concerto. La Corale, attiva da oltre vent'anni, è specializzata in brani musicali della tradizione sacra, anche se non di sdegno a pezzi del repertorio classico. Al pubblico l'Odigiano ha proposto brani di Mendelssohn, Schubert, Mauri e Brahms, chiudendo la sua esibizione con la Notte Santa di Gozzano Ravelli. Ormai nota ed apprezzata anche fuori provincia, la Corale San Giorgio ha raccolto come sempre gli applausi del pubblico presente.